Salve ragazzi, siamo della scuola Medica Valtanti di Sesto Trentino e vorremmo invitarvi alla nostra iniziativa di lunedì 5 giugno alle ore 10 nel quale tratteremo del nostro rapporto con la rete per farci diventare protagonisti attivi parleremo di tanti argomenti interessanti tra cui la Blue Wave Grazie a tutti